Caterina va ricordata, noi con Maurizio abbiamo dedicato un album doppio interamente dedicato a lei perché crediamo che sia un patrimonio della nostra regione, dell'Italia, del mondo della musica perché veramente ha fatto un lavoro enorme e purtroppo nel mondo del spettacolo tutto va molto velocemente specialmente adesso con internet quindi tutto appare un po' come delle meteore che passano lavorare sulla memoria è importantissimo, per me Caterina è centrale quindi è sempre presente nella mia vita perché i suoi insegnamenti mi hanno accompagnato durante e credo che le nuove generazioni abbiano bisogno di scoprire di riscoprire questa figura e di apprezzare tutto il lavoro che ha fatto Grazie